Alcuni giorni fa, leggendo la parte centrale del capitolo 20 dei Promessi Sposi, abbiamo parlato dei preparativi del rapimento di Lucia. Quest'oggi leggeremo una delle scene più importanti dell'intero romanzo, cioè per l'appunto il rapimento della protagonista. Non solo, faremo anche alcune ulteriori considerazioni sul personaggio dell'innominato, che, come sapete, ha un ruolo chiave all'interno di questa vicenda e che comparerà nuovamente verso la fine del capitolo. Ecco il testo. Lucia passò inosservata la porta del chiostro, prese la strada con gli occhi bassi rasente al muro. Trovò con le indicazioni avute e con le proprie rimembranze, cioè con i propri ricordi, la porta del borgo. Ne uscì, andò tutta raccolta e un po' tremante per la strada maestra, cioè per la strada principale. Arrivò in pochi momenti a quella che conduceva al convento e la riconobbe. Quella strada era ed è tuttora affondata a guisa di un letto di fiume, cioè come il letto di un fiume, tra due altre rive orlate di macchie che vi formano sopra una specie di volta. Lucia, entrandovi e vedendola affatto solitaria, cioè completamente deserta senza nessuno, sentì crescere la paura e allungava il passo. Ma poco dopo si rincorò alquanto nel vedere una carrozza da viaggio ferma e accanto a quella, davanti allo sportello aperto, due viaggiatori che guardavano in qua e in là, come incerti della strada. Andando avanti sentì uno di quei due che diceva, ecco una buona giovine che ci insegnerà la strada. Infatti, quando fu arrivata alla carrozza, quel medesimo, con un fare più gentile che non fosse l'aspetto, si voltò e disse, quella giovine, ci sapreste insegnare la strada di Monza? Andando di lì vanno a rovescio, rispondeva la poverina. Monza è di qua, e si voltava per accennare col dito. Quando l'altro compagno, era il Nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra. Lucia, girò la testa indietro, atterrita, e cacciò un urlo. Il malandrino la mise per forza nella carrozza. Uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò, per quanto lei si divincolasse e stridesse, a sedere di rimpetto a sé, c'è di fronte a lui. Un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il Nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza. Lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera, cioè a gran velocità. L'altro, che le aveva fatta quella domanda traditora, rimasto nella strada, diede un'occhiata in qua e in là, per vedere se fosse accorso qualche d'uno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno. Saltò su una riva, attaccandosi a un albero della macchia, e gli sparve. Era costui uno sgherro di Egidio. Era stato, facendo l'indiano, cioè facendo finta di nulla, sulla porta del suo padrone, per vedere quando Lucia usciva dal monastero. L'aveva osservata bene, per poterla riconoscere, ed era corso, per una scorciatoia, ad aspettarla al posto convenuto. Come vedete, la descrizione del rapimento di Lucia è piuttosto veloce, perché tutto effettivamente si svolge nel giro di pochissimi istanti. Notiamo la differenza rispetto al primo tentato rapimento di Lucia. Là tutto era stato piuttosto improvvisato. Qui la cosa viene svolta, verrebbe da dire, in maniera professionale. Come vi dicevo, l'innominato è un delinquente di ben altro livello e di ben altre capacità rispetto ad un Rodrigo. Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di Costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione e li richiedeva subito per il ribrezzo e per il terrore di quei visacci. Si storceva, ma era tenuta da tutte le parti. Raccoglieva tutte le sue forze e dava delle stratte, cioè degli strattoni, per buttarsi verso lo sportello. Ma due braccia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza. Quattro altre manacce ve l'appuntellavano. Ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo, il fazzoletto veniva a soffogarglielo in gola. Intanto tre bocche d'inferno, con la voce più umana che sapessero formare, andavano ripetendo «Zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi male». Dopo qualche momento di una lotta così angosciosa, parve che si acquietasse. Allentò le braccia, lasciò cadere la testa all'indietro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile. E quegli orridi visacci che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un mescuglio mostruoso. Le fuggì il colore dal viso. Un sudor freddo glielo coprì, s'abbandonò e svenne. «Su, su, coraggio!» diceva il nibbio. «Coraggio, coraggio!» ripetevano gli altri due birboni. Ma lo smarrimento di ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci. «Diavolo, par morta!» disse uno di coloro. «Se fosse morta davvero...» «Oh, morta!» disse l'altro. «E' uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualche d'uno, uomo o donna che fosse, c'è voluto altro. «Via!» disse il nibbio. «Attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni e teneteli pronti. Che in questo bosco dove si entra ora c'è sempre dei birboni annidati. Non così in mano, diavolo! Riponeteli dietro le spalle, li stesi. Non vedete che Costei è un pulcim bagnato che basisce per nulla? Se vede armi è capace di morire davvero. E quando sarà rinvenuta, cioè quando si sarà ripresa dallo svenimento, badate bene di non farle paura. Non la toccate se non vi fosegno. A tenerla basto io. E zitti, lasciate parlare a me.» Intanto la carrozza, andando sempre di corsa, si è rinoltrata nel bosco. Dopo qualche tempo, la povera Lucia cominciò a risentirsi come da un sonno profondo e affannoso e aprì gli occhi. Penò alquanto a distinguere gli spaventosi oggetti che la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri. Al fine comprese di nuovo la sua terribile situazione. Il primo uso che fece delle poche forze ritornatele fu di buttarsi ancora verso lo sportello per slanciarsi fuori, ma fu ritenuta e non poté che vedere un momento la solitudine selvaggia del luogo per cui passava. Cacciò di nuovo un urlo, ma il Nibbio, alzando la manaccia col fazzoletto, «via!» le disse più dolcemente che potè. «State zitta, che sarà meglio per voi!» «Non vogliamo farvi male, ma se non state zitta vi faremo stare noi!» «Lasciatemi andare! Chi siete voi? Dove mi conducete? Perché mi avete presa? Lasciatemi andare! Lasciatemi andare!» «Vi dico che non abbiate paura! Non siete una bambina e dovete capire che noi non vogliamo farvi male! Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi cento volte se avessimo cattive intenzioni! Dunque state quieta! No, no, lasciatemi andare per la mia strada! Io non vi conosco! Vi conosciamo noi! O Santissima Vergine, come mi conoscete? Lasciatemi andare, per carità! Chi siete voi? Perché mi avete presa? Perché c'è stato comandato! Chi, chi? Chi ve lo può aver comandato? Zitta! Disse con un visaccio severo il nibbio. A noi non si fa, dico d'este domande. Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere, e con la testa bassa, con le gote, cioè con le guance, irrigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, o diceva, per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare. Cosa vi ho fatto di male io? Sono una povera creatura che non vi ha fatto niente. Quello che mi avete fatto voi ve lo perdono di cuore, e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti, e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui, il Signore mi farà trovare la mia strada. Non possiamo. Non potete. Oh Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché? Non possiamo. È inutile. Non abbiate paura che non vogliamo farvi male. State quieta e nessuno vi toccherà. Accorata, affannata, atterrita sempre più nel vedere che le sue parole non facevano nessun colpo, cioè non sortivano alcun effetto, Lucia si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini, e può, quando voglia, intenerire i più duri. Si strinse il più che potè, nel canto della carrozza, mise le braccia in croce sul petto e pregò qualche tempo con la mente. Poi, tirata fuori la corona, cominciò a dire il rosario, con più fede e con più affetto che non avesse ancora fatto in vita sua. Ogni tanto, sperando d'avere impetrata, cioè ottenuta, la misericordia che implorava, si voltava a ripregare coloro, ma sempre inutilmente. Poi ricadeva ancora senza sentimenti, poi si riaveva di nuovo per rivivere a nuove angosce. Ma ormai, dice il narratore, non ci regge il cuore a descriverle più a lungo. Una pietà troppo dolorosa ci affretta al termine di quel viaggio che durò più di quattro ore, e dopo il quale avremo altre ore angosciose da passare. Trasportiamoci al castello dove l'infelice era aspettata. Qui c'è una tecnica narrativa molto classica, tradizionale, che anche Manzoni utilizza, e la cosiddetta ellissi. È una sorta di taglio all'interno del racconto, sarebbe completamente inutile e anche molto ripetitivo raccontare tutte queste ore di viaggio, quindi si fa finta di arrivare praticamente direttamente già al castello, o quasi. Nella sequenza che leggiamo ora, invece, si cambia personaggio. Non si parla più direttamente di Lucia, ma di nuovo dell'innominato, che ovviamente la sta aspettando al suo castello. Era aspettata dall'innominato con un'inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana. Quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, causati, provocati, se non qualche volta, per assaporare in essi una selvaggia volutà di vendetta. Ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle, ed ecco spuntare la carrozza e venire innanzi lentamente, perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga e domate le forze dei cavalli. E benché, dal punto dove stava a guardare, la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocco, cioè per gioco, ai fanciulli, la riconobbe subito e si sentì il cuore battere più forte. Ci sarà? Pensò subito, e continuava tra sé. Che noia, mi dà costei, liberiamocene. E voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza a ordinare al nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di Don Rodrigo. Ma un no imperioso che risonò nella sua mente fece svanire quel disegno. Tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine, riuscendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo, come un tradimento, che so io, come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna. Qui compare un nuovo personaggio e c'è una sorta di piccola digressione. Del resto, come dicevamo prima, il narratore deve, diciamo così, far passare il tempo nell'attesa che arrivi Lucia, creando quindi ovviamente anche un po' di suspense in noi lettori. C'è un piccolo approfondimento, una piccola parentesi su questa vecchia donna. Lo leggiamo. Era Costei nata in quello stesso castello da un antico custode di esso e aveva passata lì tutta la sua vita. Ciò che aveva veduto e sentito fin dalle fasce le aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribile, qui abbiamo uno simoro, del potere dei suoi padroni. E la massima principale, che aveva attinta dall'istruzione e dagli esempi, era che bisognava ubbidirli in ogni cosa, perché potevano fare del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gli uomini, svolgendosi nel suo, insieme coi sentimenti di un rispetto, di un terrore, di una cupidigia servile, si era associata e adattata a quelli. Quando l'innominato, divenuto padrone, cominciò a far quell'uso spaventevole della sua forza, Costei ne provò da principio un certo ribrezzo insieme e un sentimento più profondo di sommissione. Col tempo, si era avvezzata, cioè abituata del tutto, a ciò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orecchi. La volontà potente e sfrenata di un così gran signore era per lei come una specie di giustizia fatale. Torna per l'ennesima volta il termine giustizia. Ragazza già fatta, aveva sposato un servitor di casa, il quale, poco dopo, essendo andato a una spedizione rischiosa, lasciò le ossa, cioè morì, su una strada, e lei vedova nel castello. La vendetta che il signore ne fece subito le diede una consolazione feroce, e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tale protezione. Da allora in poi non mise piede fuor del castello che molto dirado, e a poco a poco non le rimase del vivere umano quasi altre idee, salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. Non era addetta ad alcun servizio particolare, ma in quella masnada di sgherri, ora l'uno, ora l'altro, le davano da fare ogni poco, che era il suo rodimento. Era sempre impegnata a fare qualcosa per questi bravi, ed era il suo tormento. Ora aveva cenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a chi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. I comandi, poi di coloro, i rimproveri, i ringraziamenti, erano conditi di beffe e di improperi. Vecchia era il suo appellativo usuale. Gli aggiunti, che qualche d'uno sempre ci se ne attaccava, variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico. Ecco lei, disturbata nella pigrizia e provocata nella stizza, che erano due delle sue passioni predominanti, contraccambava alle volte quei complimenti con parole in cui Satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno che in quelle dei provocatori. Dunque, una figura quasi perduta, demoniaca, si parla addirittura di Satana. Tu vedi laggiù quella carrozza, le disse il signore. La vedo, rispose la vecchia, cacciando avanti il mento appuntato e aguzzando gli occhi infossati come se cercasse di spingerli sugli orli delle occhiaie. Fa allestire subito una bussola, Entra, entraci e fatti portare alla malanotte. Subito, subito, che tu ci arrivi prima di quella carrozza. Già la viene avanti col passo della morte. In quella carrozza c'è, ci deve essere, una giovine. Se c'è, di al Nibbio il mio nome, che la metta nella bussola e lui venga su subito da me. Tu starai nella bussola, con quella giovine, e quando sarete quassù, la condurrai nella tua camera. Se ti domanda dove la meni, di chi è il castello, guarda di non... Oh, disse la vecchia. Ma, continuò l'innominato, falle coraggio. Cosa le devo dire? Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta a codesta età senza sapere come si fa coraggio a una creatura quando si vuole? Hai tu mai sentito affanno di cuore? Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in quei momenti? Dille di quelle parole. Trovale alla malora. Va. E partita che fu, si fermò alquanto alla finestra, con gli occhi fissi a quella carrozza, che già appariva più grande di molto. Poi gli alzò al sole, che in quel momento si nascondeva dietro la montagna. Poi guardò le nuvole sparse al di sopra, che di brune si fecero quasi a un tratto, quasi improvvisamente, di fuoco. Si ritirò, chiuse la finestra, e si mise a camminare innanzi e indietro per la stanza, con un passo di viaggiatore frettoloso. Come avete visto, le ultime pagine del capitolo ventesimo dei Promessi Sposi sono pagine che potremmo definire di attesa, di suspense, di transizione. L'incontro fra Lucia, che è appena stata rapita, e l'innominato, avverrà poi nel capitolo seguente, all'inizio del capitolo ventunesimo, capitolo del quale ci occuperemo poi, con calma, nelle lezioni della prossima settimana. Grazie a tutti per l'attenzione, e buon proseguimento di giornata.